Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video del Gobbo Toscano. Grande, 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 grande. Oggi inizia il fine settimana. Oggi ho fatto gli auguri intanto a mia moglie, a mia figlia, per la festa della donna. Quindi auguri, auguri, auguri. Oggi comincia il fine settimana, è un fine settimana veramente pesante. Pesante dal punto di vista del trasloco, dal punto di vista della partita di domenica pomeriggio della Juventus con l'Atalanta, visti i precedenti e visti gli infortunati e gli squalificati. Quindi direi che oggi dovremmo fare un discorsino perché in questi giorni, soprattutto in queste ultime ore, sul web ho sentito tanti ciarlatani dire cavolate, disumane. E qui bisogna mettere un punto e dire fine a certe cavolate. Fatemi parlare per bene perché sarebbe anche giusto alzare un po' i toni, ma ci vogliamo distinguere dalla massa becera. Quindi, prima di tutto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Lasciate un like, condividete il video, commentate in maniera educata e soprattutto attivate la campanella per non perdervi i prossimi video e aggiornamenti, video, live, post partita. Ci sarà domenica sera il post partita, ci sarà un video post partita subito dopo a caldo, ci sarà anche qualcosa di pre partita, il fine settimana sarà ricco comunque di video e live. Quindi, domani sera faremo ancora live probabilmente. Ora vediamo. Comunque, comunque, detto questo, cosa ho sentito? Mi ha infastidito tanto. Cosa, cosa? Ho sentito gente che diceva Eh, ma non è detto che se cambi l'allenatore come ha fatto la Roma, la Juventus debba vincere tutto. Sicuramente giocheremo meglio ma faremo meno punti. Probabilmente non servirebbe a nulla. Ma De Rossi chiede, non lo conosceva nessuno ora perché ha vinto un po' di partite. Tutti lo osannano. Facciamo chiarezza. Qui, intanto, nessuno osanna nessuno. Però, bisogna essere obiettivi. E io vi porto un dato. Allora, prima del dato vi dico che è ovvio che non c'è una controprova, una conferma sul fatto che se domani arriva, esempio, Montero a traghettare la Juve fino a fine stagione, ci sia un cambio come è successo a Roma. Non è scontato. Ci può essere anche un continuo dello schifo perché un peggiorare non lo vedo possibile. Perché come fai a peggiorare questi punti che abbiamo fatto nelle ultime sei partite? Come fai a peggiorare? Non puoi, perché almeno non te le perdi tutte. Però la vedo molto, molto, molto difficile. Quindi o eguagli lo schifo o vai a migliorare. Quindi già questo è qualcosa di propositivo per poter pensare a un cambio. Ma lasciamo perdere questo. Andiamo a vedere i dati che vi voglio mostrare. che non è che si parla che De Rossi è un grandissimo allenatore, meglio di quello è meglio di quell'altro. Sicuramente è meglio dei Murigno e degli Allegri oggi. Non dei Murigno e degli Allegri storicamente parlando. Hanno avuto una carriera, hanno vinto tanti trofei, hanno fatto tantissime cose buone, ma in un determinato momento. E' come Lippi, Lippi ha fatto tantissimo all'evento, si è portato anche un mondiale all'Italia. Il mondiale dopo chi ha fatto? Si è fatto cagare. Però non per questo Lippi non è un allenatore bravo, è un allenatore stratosferico che però poi ha finito, non avendo più stimoli, avendo già la cosiddetta pancia piena a una certa età, è cominciata la fase calante. Ma come per tutti, per i giocatori, come per gli allenatori. Vi volevo far vedere questi dati. Le partite della Roma, da Milan-Roma 3-1, in cui poi Mourigno se ne va, due giorni dopo, e la prima partita di Dio Rossi il 20 gennaio, perché Mourigno viene mandato via il 16 esattamente. Roma-Verona 2-1, vittoria. Al-Shabaab-Roma 1-2, vittoria, siamo al 2. Salernitana-Roma 1-2, vittoria, siamo al 3. Roma-Cagliari 4-0, siamo a 4, 4 su 4, sia Europa che Italia. Poi Roma-Inter 2-4, prima sconfitta. Feyenoord-Roma 1-1, pareggio, pareggio. Quindi altro risultato, mettiamolo tra i negativi. Frosinone-Roma 0-3, vittoria. Roma-Feyenoord, qui la mettiamo tra le vittorie, perché pareggiano 1-1, ma vanno ai rigori e vince Roma 4-2, quindi sesta. Roma-Torino 3-2, settima contro due. E vi ci ho messo un pareggio che andrebbe messo di qua, ma va bene. Monza-Roma 1-4, e siamo a 8. Roma-Brighton 4-0, e siamo a 9. 9 vittorie, allora facciamo 8 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. In 11 partite, 8 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Volete dirmi che qualcuno ha fatto meglio in quest'ultimo periodo? Allora, se noi andiamo a vedere le partite prima con Mourinho, la Roma ha perso con il Milan, 3-1. Ha perso con la Lazio 1-0. Ha pareggiato con l'Atalanta. Ha perso con la Juventus, ha vinto con la Cremonesi, ha vinto con il Napoli, ha perso con il Bologna. Ha vinto con lo Sheriff, ha pareggiato la Fiorentina. Ha vinto con il Sassuolo e ha pareggiato col Servette. Ha perso lo Slavia Praga, ha vinto con l'Udinese, ha pareggiato con la Lazio, ha vinto con il Lecce, ha perso con l'Inter, ha vinto con lo Slavia Praga. Ha vinto col Monza, ha vinto col Cagliari e col Servette. Ha vinto col Frosinone, ha perso col Genova. Ha pareggiato col Torino, ha vinto con lo Sheriff. Ha vinto con l'Empoli, ha perso col Milan. Ha perso col Verona, ha pareggiato con la Salernitana. Ha vinto col Partizan, ha perso dal Tolosa. Ha vinto con la Farenze e con l'Estrela Amadora. Ha vinto con lo Spezia e ha pareggiato col Braga. Ha perso con la finale con il Siviglia. Poi tornando indietro, torniamo sempre indietro, la Fiorentina. Però quest'anno, parliamoci chiaro, quest'anno ha fatto sicuramente un cambio di passo da come era in classifica. La Roma era nona, decima, non me lo ricordo, ottava. Ora è quinta. È quinta a 47 punti, ha più uno sull'Atalanta, ha meno 4 dal Bologna, ha meno 10 dalla Juventus seconda. Cioè non è a meno 100. C'è più differenza tra l'Inter, che è prima, e la Juventus che è seconda, quindi 15 punti, che tra la Juventus e la Roma. La stessa differenza la troviamo tra Juventus e Fiorentina, 15 punti. Cioè dalla seconda all'ottava posizione. Per farvi capire, no? Che prima di dire, cioè io non capisco quella gente che dice, come Oppini, Oppini ieri, ma Allegri è l'unico che può tenere le redini di questa squadra, questa panchina difficile come la Juventus, per carità non lo mettiamo in dubbio, ma perché deve essere l'unico? L'unico dei fattibili? Neanche! Perché togliamo i vari guardioli, i vari clop, che tra l'altro per una Juventus non è che sono infattibili. È che per una politica aziendale ad oggi sono infattibili. Poi il clop bisognerà vedere, perché il clop bisognerà capire cosa vorrà dal prossimo anno, quando non sarà più a Liverpool. Però anche lì, poi ci sarà un guardiola, sarà un prossimo, un paio di stagioni. Bisognerà capire tante cose, ma lasciamo fare i sogni. Prendiamo quelli tangibili, no? I vari Tiago Motta, Conte, lo stesso De Zerbi, Italia, sono fattibili. Ora, voglio capire se c'è qualcuno di questi che potrebbe fare peggio di Allegri in questo trend. Ovvio, peggio dell'Allegri in generale alla Juventus è facile fare peggio di Allegri, ha vinto quasi tutto, tranne la Champions perché è arrivato in finale due volte. Ma per il resto di Carlino, ragazzi, Allegri ha fatto bene come ha fatto bene Lippi alla Juventus. Lippi di più, Lippi non lo paragoniamo ad Allegri. Per carità di Dio, non confondiamo una cosa o l'altra. Ma per farvi un esempio, che io non parto prevenuto che Allegri è un idolo e Allegri è una merda. No, nessuno mi ha detto questo. Sto dicendo solo che è finito un ciclo. Semplicemente è finito un ciclo. Quindi, ora, quello che succederà è in mano alla dirigenza. La dirigenza lo sa, la proprietà lo sa, quello che succederà. Noi proviamo a capirlo, proviamo a dire la nostra. Io credo che quelli che mi seguono abbiano l'idea più o meno concorde alla mia. Cioè che cambiare ora o cambiare dopo, quello a parte, ma che dal prossimo anno almeno Allegri non debba più essere allenatore della Juventus, penso siamo tutti d'accordo. Ancora qualcuno c'è che insiste dicendo, eh ma Allegri ha vinto, ma non c'entra nulla. Non si deve andare per un discorso di, come si dice, di ricordo. Questo ha fatto, cioè, gli idoli, il passato. Il passato non va guardato. Perché sennò giocherebbe ancora Del Piero, Treseguet e Nedved, Turam, Cannavaro, Zambrotta, Buffon o Peruzzi secondo, Davids, vediamo, Camoranesi. Se si va a memoria, giocano loro. Ma se bisogna guardare avanti, finiscono i giocatori e finiscono anche i cicli degli allenatori. Allegri non è così vecchio, ma a livello calcistico è molto più vecchio di tanti altri più anziani di lui. Di età, anagrafica, ma calcisticamente più aggiornati. Quindi Allegri secondo me la cosa migliore sarebbe il prossimo anno stare fermo. Fassi un anno, non ho sabatoio, in vacanza, i casinò, i soldi a cavalli. Ma prendere veramente un almanacco del gioco del calcio, studiarselo bene, aggiornarsi con le tattiche nuove, con i moduli più utilizzati anche in Europa oggi, capire il perché fare un corso anche, accelerato ovviamente, a tocco soldi si può fare tutto. E poi ti rimetti in gioco. Riparti da una squadra normale, tipo una Lazio, una Roma, una medio alta classifica, no? E ti rimetti in gioco, ti rimetti in gioco, almeno rimani in Italia. Ti diminuisce lo stipendio, hai tanto di soldi, ti scappano dall'orecchio. Basta, semplice, no? Però non mi venite a dire che De Rossi in confronto a Allegri ha una caccola nell'universo. No, perché oggi sta dimostrando che ad oggi è superiore ad Allegri. Se poi vediamo tutta la storia non possiamo fare il paragone, perché Allegri da ieri a oggi ha fatto questo. De Rossi da oggi a chissà quando farà il suo. Poi potremo metterli a paragone. Oggi possiamo mettere a paragone Allegri o Lippi. Lippi vincente, Allegri vincente, ma non del tutto. Però nulla da togliere. Se mi dite Allegri un perdente vi dico no. Non è che sto sindacando. Ecco, è quello che dovete aprire. Cercate di estrapolare le varie cose. Non andate per partito preso a difendere la vostra idea della sceppa. Cioè di dire Allegri in o Allegri out. Ma che cacchio se ne frega di Allegri in o Allegri out. Parliamo di quello che ha fatto, quello che fa e quello che potrà fare. Da lì facciamo un'analisi e decidiamo se è giusto rinnovarlo, mandarlo via domani o mandarlo via oggi. Fino alla fine Forza Juve, non perdetevi i prossimi video. Mi raccomando, oggi siamo cari e a molla. Like, iscrizione, condivisione e commentate. E attivate la campanella per non perdervi i prossimi aggiornamenti. Ciao.